Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo mio modo, io sono Rickman e questa è la mia nuova macchina delle caramelle che sono ce l'ho Allora, vi dico subito che praticamente questa Questo video non ha nessuna canzone, ci sono sopra questa narrazione perché appunto non si può che musica metteci, però spero che vi piaccia ugualmente e niente, conditevi il video fino alla fine, ciao Grazie Grazie Grazie